Il mondo scoprirai, molte cose imparerai, TRIPPY! TRIPPY! Ehi! Guardate dove siamo! Oggi ci troviamo al Museo dei Bambini Glazer a Tampa, Florida! Sarà una giornata divertentissima! Andiamo! Oh! Guardate questa sala! Ci sono un sacco di cose con cui giocare! L'acqua, ad esempio! Guardate! Oh! E guardate qui! La vedete? Questa è la gru portuale! Se premiamo questo bottone, la gru trasporta il carico attraverso la baia come nella realtà! Ciao ciao carico! E guardate qui! Sembra il modellino di un ponte sospeso! Oh! E ci sono delle palline qui! Mettiamo le palline nel tubo! Guardate! Wow! Le palline arrivano alla fine come macchinine sulla pista! Guardate questi giocattoli! Un giocattolo giallo! Un giocattolo giallo! Una pallina blu! Una barca verde! E gialla! Vedete? Uh! E anche un pesce! Mi piace! I pesci sono buoni da mangiare e sono molto salutari! E guardate! Un sommozzatore! Gli mettiamo la maschera e il boccaglio e la bombola gli permette di respirare sott'acqua! Ma così! È stato divertentissimo! E a proposito di divertimento! Guardate qua! È una specie di vite che sta a metà nell'acqua e a metà fuori! E quando la fai girare... Trasporta l'acqua in cima! Wow! E quando l'acqua arriva in cima viene fuori da questo robinetto e fa girare la ruota! Wow! Questo posto è fantastico! Uh! E cosa abbiamo qui? Sembra che ci sia un bottone! Cosa succede se premiamo il bottone? Oh! Wow! Ah ah ah! È come una fontana che posso azionare! 3, 2, 1... Ok, andiamo a cercare qualcos'altro! E' un altro modellino di un ponte sospeso! E guardate qui! È un'automobilina! Vum, 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 vum! Pronti? È il momento di farla correre! Ora contiamo! 3, 2, 1... E andiamo! Yeah! Ce l'abbiamo fatta! Andiamo! Oh! E questo cos'è? È un telescopio! Wow! 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 Ah ah! Cosa abbiamo qui? Guardate! Questo è un simulatore di nave da crociera! Vum, vum! Avanti! Indietro! Miau, 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 miau! È fortissimo! E guardate! Qui c'è della sabbia! Wow! E un sacco di giochi da spiaggia! Venite! Miau, miau, miau! Miau, 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 miau! Miau, 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 miau! Miau! Chu, 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 chu! Adesso uso la paletta! Guardate da vicino! Ok, cerchiamo un posto dove rovesciarla! La sabbia esce dal fondo e queste girano! Wow! Questa spiaggia è proprio forte! Oh, c'è una specie di ancora qui, guardate! Dobbiamo scavare come se fosse un tesoro! Wow! Questa è un'ancora che si attacca alla barca e poi la getti fuori bordo e va giù e arriva in fondo al mare e tiene la barca stabile in un punto lì in mezzo al mare! Andiamo! Poi sono andato alla mostra sulle musiche del mondo Si divertono! Guardate! Stiamo suonando i tamburi a tutta forza! Ok, adesso pianissimo! E poi suoniamo il più piano possibile! Un po' più forte? Un po' più forte? Fortissimo! E poi suoniamo di nuovo i tamburi a tutta forza! Un supermercato! Andiamo! Facciamo la spesa! Per prima cosa prendiamo... un corrello! Si parte! Che tipo di cibo vogliamo comprare? Prendiamo dei cereali! Ok! E... Per pranzo prendiamo... Vediamo... Prendiamo delle lasagne! Miam! Mi piacciono le lasagne! E... Uh! Biscotti alla cannella! Oh! Dei coni gelato come dessert! Uh! Sì! Devo prendere delle verdure! Mi piacciono le verdure! Sono davvero salutari! Come... E i peperoni! Prendiamo... Sì! Quello verde! E... Un pomodoro rosso! Una carota! Un po' di mais! Miam! Uh! Cosa abbiamo qui? Banane! Le banane sono gustose e salutari! Arancia! C'è un'arancia! Arancione! Uh! Bibi bibi bibi! E... Potremmo anche prendere una mela! E una pera! Miam! 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 E non dimentichiamoci... Dei pomodori a cubetti! E... Vediamo... Cos'altro? Miam! Cos'altro possiamo prendere? Anelli di spaghetti? Già! Anelli di spaghetti! E... Altri anelli di spaghetti! E... Altri anelli di spaghetti! Ok! Ora che abbiamo tutto il nostro cibo... Andiamo... Uh! La pasticceria! Non possiamo andarcene senza una fetta di torta! Ok! Ecco qui! Prendiamo una di queste... Ok! Miam! Sembra gustosa! Miam! Miam! Sì! Era gustosa! Molto bene! Andiamo! Oh! Non possiamo andarcene senza pagare! Vediamo cosa abbiamo preso... Totale! Vediamo! Ok! Questo è tutto! Yeee! Ok! Adesso possiamo andare! Venite! Ti 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 ti! Ah! Yeee! Adesso che abbiamo tutto questo cibo... È il momento di metterci a cucinare! Ok! Mettiamo questo qui! E andiamo da questa parte! Weee! Sì! Perfetto! Ci sono forni per la pizza! Yop! E ci sono i condimenti per la pizza! Quanti condimenti! Guardate! Ok! Vi preparerò una pizza! Vediamo! Prima cosa... Cominciamo con la base! E cosa vorreste su... Cosa vorreste su? Oh! Vi piacciono i peperoni! Ok! Mettiamoci dei peperoni verdi! Eccone un altro! Eccone un altro! Vediamo! Vediamo! come funghi! Come funghi! Già! Mi piacciono i funghi! Due... Due... Tre! E... Olive nere! Uuuu... Yum! Ok! Perfetta! Guardate la pizza! È proprio invitante! Wow! La metterò nel forno! Così! Dobbiamo aspettare un po'! Ok! È pronta! Ok! Andiamo di qua! E serviamola alle persone! Ecco a te! Buon appetito! Uh! Cosa abbiamo qui? Questo è... Sì! È dove si possono ordinare i panini! Vi piacciono i sandwich? Sì! Io adoro i sandwich! Cominciamo col piatto! E... Aggiungiamo una fetta di pane! Ok! E... Vorreste del formaggio? Sì! Mi piace il formaggio! Gnom! Di 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 di! Mettiamo il formaggio sul pane! E... Uh! Vi va della lattuga? Gnom! La lattuga è buonissima! E fa bene! Ok! E... Dell'affettato! Mmm! Questo sembra buono! Mettiamolo su! Vedete? Cos'altro potrei usare? Che ne dite di altre verdure? Sì! Come un pomodoro! Gnom! Anzi! Meglio! Mettiamo due pomodori! Uno! Due! Ok! Ora ci serve... Un altro pezzo di pane! Ok! Mmm! È proprio invitante! Andiamo di nuovo a servirlo! Molto bene! Ecco a voi! Ok! Portiamogli delle tazze e poi penso che siano pronti a mangiare! Una tazza gialla per te e una tazza blu! Serviti! Wow! Una caserma dei pompieri! Caserma numero 110! E guardate! Delle sagome di pompieri! Posso essere anche io! Un pompiere! Ciao! Ehi! Oh! Ciao! Salve! E ultimo ma non meno importante! Ciao! Salve! Ok! Dobbiamo entrare nel camion dei pompieri! Devo prendere il cane che si siederà davanti con me! Ok! Siedi qui collega! Ok! E poi... Oh! Cavoli! Ho acceso la sirena! Mettiamo l'elmetto da pompiere! Ok! Siamo arrivati alla caserma! Vado ad agganciare l'idrante! Prendo il tubo! Tutto collegato! Andiamo dentro molto velocemente! Ciao! 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 Ciao laggiù! E guardate! C'è una pertica! Pronti? Wow! 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 Vai a spegnere un incendio! C'è un incendio! Andiamo! Entriamo! Ok! Si parte! Palla arancione! Palla blu! Wow! Ok! Palla blu! Wow! Avete visto? Cosa c'è lì? Sembra un mucchio di ingranaggi! E girano! Ma quando fai girare questo penso che l'obiettivo sia di far girare quello usando tutti questi! Ok! Dobbiamo collegarli fra loro! Ok! Proviamo il giallo collegato al rosso! Il rosso connesso al giallo! E poi colleghiamo il blu al rosso! Vedete? E poi colleghiamo il blu al blu! Blu, blu, rosso, giallo, rosso! Pronti? Wow! Ce l'abbiamo fatta! E guardate cosa fa! Wow! Ehi! Guardate questo! Wow! È una parete di roccia! È un muro pieno di rocce! Le puoi afferrare, tenerti e salire! Così puoi andare dall'altra parte senza toccare il pavimento! Wow! Ce l'abbiamo fatta! Ottimo lavoro! Oh! Cos'è questo? Ci sono alcuni animali come le tartarughe! Le tartarughe sono lentissime! E un cane! E un coniglio! E un pappagallo! I pappagalli sono veloci! Mi chiedo cosa si debba fare qui! Provo a premere il coniglio! Sì! Ho finito la corsa! E battuto il coniglio! Bene! Andiamo col pappagallo che è molto più veloce! Pronti? Si parte! Wow! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Oh, ehi! Sto attaccando questi mattoncini su questo muro! Guardate cosa scrivo! Oh, ho visto! Ho scritto il mio nome! Conoscete il mio nome? Oh, ho visto! Esatto! Blippi! B-L-I-P-P-I! Blippi! Vediamo quali altre parole hanno scritto gli altri! Come questa! Hanno scritto... My stuff! Robba mia! E poi... Uh! Peace! Pace! Uh! Happy! Felice! Friend! Oh, come voi! Voi siete i miei amici! Uh! E love! Amore! E... My bro! Mio fratello! Qui al museo hanno un palco dove puoi vestirti come un pirata e recitare la parte di un pirata! In guardia! Avanti! Cing cing cing! Cing cing cing! Cing cing cing! Cing 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 cing! Cing 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 cing! Guardate! Ho una spada! Cing 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 cing! Cing cing cing! Vediamo cos'altro hanno qui! Uh! Guardate! È una parete fatta di bottoncini e sono rossi! Ah! Li puoi premere! Oh! Ha una grande idea! Guardate! Eh? Ahahahah! È stato divertente! È un po' buffo! Andiamo a vedere! Venite di qua, giriamo intorno! Oh! Guardate! C'è la mia faccia, il mio corpo, le mie mani È come avere una copia di me stesso Andiamo! Dei blocchetti fortissimi! Sono dei regoli Altri blocchetti colorati Come questi verdi E uno rosa E uno rosso Cosa abbiamo qui? Wow, è proprio buio qui dentro Entriamo! Ok Ok, wow C'è una luce E questa è una parete luminescente, guardate! Ok Oh, ho scritto il mio nome! B-L-I-P-P-I Fortissimo! Ok Oh, quante cose! Oh, oh! Yeah! È una pista da ballo! E guardate! C'è anche una telecamera! Wow! Wow! Ok, si deve premere un bottone Vediamo Pop, balletto, bollywood, latino, country, hip-hop, party O jolly Oh, direi party! B-B-I-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P! Ehi! Sono io, Blippi Oggi siamo al Pasadena Humane Society Per vedere quali animali stanno cercando casa sono emozionato andiamo ok ora siamo nel negozio in cui si possono comprare snack giocattoli e cibo e tante altre cose per gli animali domestici cosa hanno qui guardate ogni giorno è gatto di buffo questo è dove i gatti mangiano il cibo o guardate qui dei giocattoli wow questo è un agnello questo sembra un piccolo pesce e scommetto che è un giocattolo per gatti perché i gatti adorano giocare col pesce ok dei trasportini guardate se decidete di portare via un animale dal ricovero humane society probabilmente userete un trasportino come questo vedete così sono bene al sicuro mentre viaggiano i guinzagli wow guardate quanti guinzagli colorati questo guinzaglio è di colore rosso questo qui è di colore rosa scommetto che conoscete questo colore è un colore che indosso sempre già è il colore blu uh venite da questa parte wow guardate questo colore già è chiaro e brillante questo colore è il rosa altri snack ma aspettate un attimo questo sembra che sia non riesco più ad aprirlo o una scatoletta di cibo venite del cibo per gatti altre ciotole queste sembrano ciotole per cani e venite qui se avete un cane o anche un gatto probabilmente avete già visto questi sacchi già contengono tanto cibo vedete questo è un pollo forse vuol dire che è al gusto di pollo altri snack già guardate questi questi sono snack che i cani adorano potremmo prenderne qualcuno e darlo a qualche cane andiamo vedete questo cane il suo nome è timmy vedete qui ha un farfallino proprio come il mio farfallino ma il mio è di colore arancione e invece quello di timmy vedete di che colore è wow ehi timmy il farfallino di timmy è di colore rosso wow è proprio un bel farfallino timmy ehi ricordate gli snack che abbiamo preso prima già timmy li adora ehi timmy guarda che cos'ho per te uno snack timmy adora questi snack questo per loro è come per noi una bella insalata o anche come vediamo una fetta di pizza bravo timmy ok ancora uno ecco a te ok adesso giochiamo con pierre e panther eccoli qui vedete questo qui è panther ciao panther è carino e soffice ciao vedete com'è carino ok andiamo a salutare pierre ehi oh oh ciao oh chissà se sono fratelli non ne sono sicuro ma si assomigliano molto ehi oh ci sono dei giocattoli lì prendiamoli oh vediamo se gli piacciono pronti ok vuoi un giocattolo o sembra di no ehi vuoi un giocattolo vuoi una pallina pronto ok riproviamo oh vuoi un altro giocattolo che ne dici che ne dici di questo come sono carini guardate chi c'è questo è un gatto questo gatto è proprio stanco ma ha appena fatto un sonnellino avete presente quando voi fate un sonnellino a metà giornata ecco questo gatto lo ha appena fatto chissà che cosa avrà sognato già guardate questo wow è un giocattolo per gatti gattino gattino non penso che gli vada di giocare adesso ma ai gatti piace tanto giocare ed è importante che voi giochiate coi gatti così che divertente oh ah ah Sì vedete ci sono altri gatti qui come questo gattino gattino ce ne sono ancora altri wow tanti stanno dormendo guardate ciao cosa hai qui qui c'è pumpkin è uno dei gatti che oggi sono disponibili a trovare una nuova casa già è arrivata qui ed è tutta sola speriamo che qualcuno venga a prenderla per portarla a casa sua wow posso coccolare pa certo che puoi ehi pumpkin ehi pumpkin pumpkin è molto dolce e carina ehi non è bellissima sì che lo è e agli occhi verdi che belli ok ciao ciao la casa degli animaletti mi chiedo che animaletti ci siano qui andiamo wow che stanza grande guardate ciao sta dormendo ma c'è un porcellino uccellino d'india che divertente ok e cosa c'è qui oh ehi uccellino oh è un uccello guardate uccellino oh guardate quell'uccello era bianco e guardate qui c'è un coniglio bianco wow vedete questo coniglio coniglio ehi ho una sorpresa per voi venite a vedere wow ho un amico coniglio qui lì dentro ok ok dove stai andando guardate ehi coniglio oh eccolo ehi sta correndo tutto intorno ciao i conigli hanno delle orecchie enormi ehi coniglio ehi dove sei oh è morbidissimo e ha le orecchie enormi ok ciao ciao è stato divertente sì quanti animali carini beh ci vediamo presto ciao ciao ti tengono compagnia e quando hai paura portano allegria se sei triste qualcosa non va con loro il male sparirà cani gatti conigli e cavie sono qui per te 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 tartarughe serpenti e pesci sono qui per te 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 amico mio io ti curerò io ti curerò e amico Amico mio, io ti curerò e sempre al tuo fianco sarò. Amico mio, io ti curerò. Amico mio, io ti curerò e sempre al tuo fianco sarò. Ehi, sono io, Blippi! Wow, guardate dove siamo! Wow, che forte questo negozio! Ehi, aspettate un attimo, ci troviamo all'Accademia di Arti Performative Allegro di Kent, Washington! Già, sapete tutti che adoro ballare? Wow, yeah! Wow! In questo posto chiunque può venire per ballare in una delle sale. E inoltre si possono anche seguire delle lezioni di danza. Woohoo! Vedrete che sarà divertentissimo! Andiamo! Oh, ciao! Ma ciao! Tu chi sei? Mi chiamo Emily. E tu chi sei? Io mi chiamo Blippi e sono qui per la lezione. Fantastico! Ci divertiremo un mondo, vedrai. Sì, che cosa devo fare? Allora, innanzitutto vai pure di là nella sala. Oggi sarò io la tua insegnante di danza. Comincia pure a fare stretching. Ok, andiamo a fare stretching e riscaldarci, forza! Wow! Guardate un po'. Quella dove ci troviamo è una sala da ballo. È proprio qui che voi e io impareremo un bel balletto insieme a Emily. Wow! Guardate! Il pavimento è super liscio e scorrevole. Già, è anche lucidissimo. Wow! Osservate? Questo? Già, questo sembra uno specchio. Oh, ciao! Ehi! Sì, nelle sale da ballo una parete è ricoperta da specchi. Così possiamo provare i passi di danza. Woohoo! Sì! Wow! E vedere come siamo andati? Sono stato bravissimo, vero? Ok, vi ricordate cosa ha detto Emily? Già, dobbiamo fare stretching e riscaldare i nostri muscoli prima che lei ci raggiunga e inizi la sua lezione di danza. Ok, per prima cosa devo togliermi le scarpe. Oh, che puzza! Ok, ora mettiamole qua giù. Bene, adesso dobbiamo fare stretching. Già, dobbiamo allungare bene i muscoli in su e anche in questo modo. Così da non farci male dopo. Per prima cosa allunghiamoci verso il basso. Vedete come mi allungo? Wow, riesco quasi a toccarmi la punta dei piedi. Adesso Emily ha detto che dobbiamo riscaldarci. Già, e per farlo è necessario muovere il nostro corpo in qualche modo. Possiamo anche correre, se vogliamo. Già, possiamo correre, possiamo fare degli squat. Wow! Oppure per riscaldarci possiamo anche fare dei passi di danza. Già, è bello farlo così. Ehi, Blippi! Oggi vuoi imparare a ballare? Ciao, Emily! Sì, io adoro imparare e adoro ballare! Certo! Bene, vuoi vedere prima il balletto? Ok, prima Emily ci fa vedere il balletto e poi lo faremo! Wow, sembra davvero super difficile ma penso di potercela fare! Mi insegni, Emily? Ma certamente! D'accordo! Ok, per prima cosa iniziamo molto vicini al pavimento. Dobbiamo avvicinarci alle ginocchia e prendere la forma di una palla, d'accordo? Ok. Da qui teniamo la posa per quattro tempi. Contiamo a mente. Uno, due, tre, quattro. Poi facciamo una grande stella allargando le gambe e saltando verso il cielo. Stiamo così per altri quattro tempi contando da cinque, sei, sette, otto. Poi da qui muoviamo i nostri fianchi da una parte all'altra con le braccia aperte e iniziamo dal lato destro. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Ci sei? Sì! E adesso impariamo a fare un bel passo intrecciato, ok? Ok, ma non vedo trecce però! Sciocchino! Si tratta di un passo di danza! Cominciamo mettendo le mani sulle anche, facciamo un passo laterale con il piede destro, andiamo di lato, incrociamo il piede sinistro dietro, vedete in questo modo. Ora un altro passo laterale e poi uniamo i piedi saltando e battendo le mani sul quattro, così! Adesso eseguiamo un passo laterale con il piede sinistro e dopo che lo avremo fatto, dobbiamo incrociare il piede destro dietro. Un altro passo con il sinistro e poi uniamo e battiamo le mani! Ok! Bene, ora da qui stendiamo le nostre braccia verso il basso, lungo i fianchi e poi step touch da un lato all'altro. Quindi partiamo con la gamba destra, così, e poi uniamo il piede sinistro a quello destro, capito? Adesso passo laterale con il sinistro e uniamo il destro. Passo laterale con il destro e uniamo il sinistro, bravo! Passo laterale con il sinistro e uniamo il destro. Adesso l'ultimo passo da imparare. Allarghiamo le gambe, le mani vanno su le ginocchia, dobbiamo eseguire il bounce due volte, pronti? Bounce uno, due! Poi battiamo due volte le mani, clap, clap! Però dobbiamo anche andare a tempo con la musica? Oh, certo! Ok, quindi bounce uno, due, clap! Perfetto, ma i piedi devono stare ben distanti perché dobbiamo essere sicuri di noi quando balliamo. Ok, sicuri di noi. Certamente, dobbiamo tenere sempre i piedi ben distanti. I piedi vicini non vanno bene, vogliamo i piedi ben distanti. Te la sentiresti di provare di nuovo lentamente i passi tutti quanti insieme? Ok. Perfetto, ricordati che dobbiamo contare a mente fino a otto. Ok, tutto qui? Tutto qui! Tutto qui! Ho appena imparato un balletto intero e penso di essere pronto. Che ne pensi? Io dico di sì. Ok, facciamo partire la musica! Uno, due, tre, quattro, stella! Muovile anche! Passo intrecciato! Stop touch! Bounce! Club! Yeah! Ce l'abbiamo fatta! È stato stupendo! Ottimo lavoro e bravissima anche tu! Grazie mille, Blippi! Sì, beh, grazie a te per aver insegnato a me e a loro come si fa a ballare! Ma figurati! Ehi, guardate! Emily sta facendo un altro balletto, andiamo! Wow, questo genere di danza si chiama jazz! Sembra davvero super divertente! Conoscete il jazz? Già! È un genere musicale! Sentite? Pu-pu-pu, pu-pu-pu, pu-pu-pu-pu, pu-pu-pu, pu-pu! Wow, vedete che cosa fa Emily adesso? Esatto, questa qui è danza classica! E sta eseguendo dei passi usando la sbarra, guardate! Grazie a tutti! Wow, è davvero bello! Questo genere di danza è molto elegante! Wow! Wow! Mi sto divertendo veramente un mondo a ballare oggi! Wow! Wow, wow! Wow! Ah! E a voi piace ballare? Già! Io adoro ballare perché è un'ottima maniera per liberare l'energia e anche allenarsi! Già! Mi piace restare in forma! Ehi, mi è venuta un'idea! E se ora io insegnassi a voi un balletto, così poi possiamo ballare insieme! Non sarebbe divertente? Già! 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 Per prima cosa, nella danza è molto importante il ritmo! Già! Tutte le canzoni hanno un loro ritmo, che è fondamentalmente il tempo! D'accordo! Adesso io batterò le mie mani a tempo, dopodiché voi batterete le vostre manine con me contemporaneamente! Ok? Pronti? Così va bene! Yeah! Lo sentite? Già! Questo è il ritmo! Ahaha! Yeah! Ce l'abbiamo fatta! Ottimo lavoro! Ok, adesso lo rifacciamo da capo, ma stavolta muoveremo anche le nostre gambe a tempo, ok? Pronti? Andiamo! Proprio così! Alla grande! Tempo doppio! Bel lavoro! D'accordo, ora che abbiamo capito cosa sono il ritmo e il tempo, è il momento di imparare dei passi di danza, ok? Per prima cosa... Già! La vedete quella? Che tipo di macchinario sarà? Già! Si tratta proprio di una ruspa, quindi ora balleremo come se fossimo delle ruspe! Per prima cosa, alzate le mani in alto, imitando le lame della nostra ruspa! Così! Ok, poi muovete le vostre gambe e ballate proprio come una ruspa! Sì! In questo modo! Siamo proprio come delle vere ruspe! Io adoro le ruspe! Wow! Ok, va bene, questo era il nostro primo passo di danza! Adesso impariamo un secondo passo! Già! Ci comporteremo come dei veri canguri! Già! Sapete che cos'è un canguro? Già! Wow! È un animale bellissimo! Ok, la cosa interessante dei canguri è che saltano super in alto! D'accordo! Mettete le mani così, dopodiché saltate altissimo! Wow! Sì! Ok, scommetto che sarete tutti bravissimi a casa vostra! D'accordo! E adesso il terzo passo di danza che faremo è... Sì! Questo è un dinosauro, vero? Di che tipo di dinosauro si tratta? Eh già! È un tirannosauro! Bravissimi! Ok, allora, la cosa buffa dei tirannosauri è che hanno le zampe anteriori molto corte! Sì, proprio così! Però sono comunque molto feroci, quindi dovete imitare la loro ferocia! Wow! 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 Ok, ma adesso dobbiamo ripetere tutto ciò che abbiamo imparato! andando a tempo! Esatto! Dopodiché imitate un tirannosauro! Raa! 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 Va bene! Questi sono i tre passi di danza! Ma adesso... Vi ricordate? Ci servono il ritmo e il tempo! Perciò... Vai DJ! Ricordate il primo passo? Già! Ballo della ruspa! Complimenti! Spalate la terra! Siete stati bravissimi! Sono molto fiero di voi! È stato un ballo della ruspa davvero spettacolare! D'accordo! Allora, adesso passiamo al nostro secondo passo di danza! Ve lo ricordate? Era un animale che salta molto in alto! Esatto! Un canguro! Pronti? 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 Che bello! I canguri sono proprio forti! Possono saltare super in alto! Woo! Ok, scioglietevi! Ok! E adesso... Il terzo passo di danza! Il tirannosauro! Pronti? C'era davvero stanchissimo! Ehi, avete visto? Già! È stato proprio super divertente imparare tutti questi balletti oggi all'Accademia di Arti Performative Allegro di Kent, Washington! Wow! Come vedete, io adoro ballare! Ehi! Se abitate qui vicino, potete venire qui e partecipare alla stessa lezione di movimento creativo a cui ho preso parte io oggi! Wow! È stata divertente! Oppure? Già! Di certo avrete una scuola di arti performative vicino dove potete imparare a ballare! Ci sono tanti generi che potete studiare come jazz, tip-tap, danza classica e danza acrobatica! Sembra davvero divertente! Bene, siamo arrivati alla fine del video, ma se volete vederne altri, tutto quello che dovete fare è cercare il mio nome! Volete fare lo spelling con me? B-L-I-P-P-I Blippi! Ben fatto! D'accordo! Adesso però ho bisogno di schiacciare un pisolino! Sono davvero stanchissimo! Guardate cosa c'è dietro di me! Questa macchina si chiama muletto! E oggi in questo video voi ed io impareremo un po' di cose sui muletti! Adesso impariamo le parti del muletto! Andiamo! Wow! Guardate qui sopra! Questa è la cabina! Qui è dove si siede il guidatore del muletto! Wow! 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 Guardate queste! Questa è una ruota con pneumatico! E anche questa ruota ce l'ha! Questa ruota è molto... GRANDE! E questa è molto... PICCOLA! Wow! Wow! Guardate questo pezzo alto! Questo si chiama montante! E questa è la griglia! Serve a cullare il carico! Wow! E queste... Sono come le forchette! Nnam, 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 nnam! Queste tre cose servono a sollevare i bancali! Oh, ehi! Guardate qui! Questa è la pista da ballo! Volevo dire il bancale! Andiamo, controlliamo l'olio! Wow! Questo è il motore del muletto! Wow! Ci sono un sacco di cose interessanti qui dentro che danno potenza al muletto! Penso che dovremmo controllare l'olio insieme! Wow! Per prima cosa tiriamo fuori l'asta! Poi la rimettiamo dentro... E controlliamo l'olio! Wow! A me sembra perfetto! Questa è ciò che chiamo facilità di manutenzione! Attenzione! Bene! È il momento di manovrare il muletto! Ma prima... La sicurezza! Ecco l'abbigliamento da indossare! Ho il mio elmetto... E poi ho questo gilet arancione! Wow! C'è vento! Sembra un mantello! Ok! Lo indossiamo... E lo allacciamo! Ora che abbiamo l'abbigliamento di sicurezza... Possiamo manovrare il muletto! Andiamo! Bene! Entriamo! Ok! Adesso siamo dentro il muletto! Come prima cosa... Allacciamo la cintura! Uh! Oh! Oh! Ecco fatto! Bella stretta! E... Questo è il volante del nostro muletto! Wow! Questo lo fa sterzare! Questa è la leva del cambio... Che lo fa andare in avanti o in retromarcia! E queste leve qui... Manovrano il montante, la griglia e le forche! Li fa andare su e giù! Li inclina in avanti e indietro! E questa li fa spostare a destra e a sinistra! Wow! Bene! Cominciamo! Adesso lo accendo e parto! Ok! Dobbèfi! Pudi a te ho Thursday! TRO! Mia è un' Grazie a tutti. Ehi, Blippi, puoi aiutarmi a spostare quei bancali al magazzino? Sì, certamente! Grazie. Bene, wow! Ok, avete sentito? Dobbiamo prendere uno di questi quattro bancali e portarlo al magazzino. Ok, uno, due, tre, quattro! Bene, guardiamo cosa c'è sopra. Venite! Oh! Il primo bancale ha sopra quattro secchi bianchi. Il secondo bancale ha un bidone grande e blu. Il terzo bancale trasporta quattro ruote nere. E il quarto bancale trasporta una benna gigante che si usa sugli escavatori! Ehi, Blippi, con chi stai parlando? Torna al lavoro! Oh, ok, avete sentito? Dobbiamo sbrigarci e tornare al lavoro o saremo nei guai? Ok, che ne dite? Prendiamo... Prendiamo le ruote! Già! Mi sembra una buona idea! Ehi, Blippi, con chi stai parlando? Grazie mille, Blippi! Ottimo lavoro! Grazie a te! Ottimo lavoro anche a voi! Ottimo lavoro anche a voi! è stato divertente imparare qualcosa sui muletti con voi beh, siamo alla fine del video ma se volete vederne altri tutto quello che dovete fare è cercare il mio nome facciamo lo spelling insieme pronti? 1, 2, 3 B-L-I B-P-I Flippi ben fatto a presto ciao ciao